La città è stata presentata oggi l'iniziativa per Roma, dei mini-sindaci dei municipi capitolini, che si terrà il 23 gennaio al Brancaccio, per rilanciare la città e il suo futuro in vista delle elezioni amministrative. Nove dipendenti del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, sono stati sospesi dall'esercizio dei pubblici uffici, per la durata di un anno, grazie alle indagini dei carabinieri di Roma, si è accertare come i nove dipendenti dopo aver marcato la presenza si allontanassero dal posto di lavoro, oppure, timbrassero per conto di altri colleghi, che arrivavano più tardi rispetto all'orario previsto, o che addirittura, non si presentavano al lavoro. Si è svolta oggi a Trigoria la conferenza stampa del mister Rudi Garcia per la gara Roma-Milan. Sulle condizioni di Salah, Totti e De Rossi, queste le parole del mister. Francesco sarà convocato, non è ancora al 100%, ma è in grado di essere con il gruppo e questa è una grandissima notizia, perché già di vederlo nel gruppo per una partita dopo tre mesi e mezzo, mi sembra, è veramente un'ottima notizia. Per Daniele dovrebbe andare bene e la buona notizia è il semaforo verde dei medici per l'utilizzo di Mohamed Salah, che alla fine non ha lesione muscolare.